Che cosa ricordiamo dei barbari e delle invasioni barbariche? Siamo proprio sicuri che quello che crediamo di sapere corrisponda alla verità? Perché quelle che noi chiamiamo invasioni barbariche, gli storici tedeschi le chiamano migrazioni di popoli? Quello che vogliamo fare oggi è proprio questo, verificare i nostri ricordi, andare a controllare sulle fonti e permetterci anche qualche confronto con il presente. Perché a volte anche qualche analogia visiva può servire per cambiare prospettiva. Per esempio ci sono alcune iscrizioni in cui i senatori romani salutano Teodorico, re degli Ostrogoti, come Augusto. Come mai? Oppure il re dei Goti Alarico. Tutti sanno che saccheggiò Roma nel 410 alla testa del suo popolo. Ma se io vi dicessi che in realtà si chiamava Flavio Alarico ed era un generale romano, comandante di tutte le truppe romane nei Balcani, farebbe la stessa impressione? Insomma, il nostro obiettivo è di tornare a ragionare su una pagina importante del passato, per riflettere sul presente e forse anche per scoprire un'altra storia delle invasioni barbariche. La prima volta che sono venuto a Ravenna da ragazzino guardavo il mausoleo di Teodorico e mi dicevo che strano edificio, si vede che l'hanno costruito i barbari. Adesso che sono un po' più grande so che il mausoleo di Teodorico è fabbricato sullo stesso modello del mausoleo di Augusto. O di quello che Costantino fece fabbricare per sua madre Elena a Torpignattara. In altre parole il re barbaro ha voluto essere sepolto in una tomba identica a quella degli imperatori romani. Oggi cominciamo proprio da qui il nostro percorso, da Ravenna, che è stata la capitale di Romolo Augustolo, l'ultimo imperatorio romano d'Occidente, e poi è stata la capitale degli Ostrogoti. E partiremo da alcune considerazioni che vengono spontanee proprio davanti a edifici come questo. Delle invasioni barbariche sono state anche in continuità e non soltanto in rottura con la civiltà romana. E che i barbari, prima di essere invasori, sono stati a lungo immigrati, ben integrati nell'impero. Per raccontare la nostra storia non dobbiamo pensare all'impero romano come era nel 476, quando almeno in Occidente ormai era un guscio vuoto, tanto che pochi si sono accorti della sua caduta. Ma dobbiamo tornare indietro di un secolo, al IV secolo d.C. E qui ci daremo un appuntamento, vicino a una città che i romani chiamavano Adrianopoli, e che oggi è Edirne, nella Turchia europea. Lì nell'anno 378 fu combattuta una battaglia decisiva per le sorti dell'impero romano. E però allora, tanto per cominciare, cerchiamo di ricordare che cos'era, in quell'epoca, l'impero romano. La conquista militare di un numero crescente di territori, la loro annessione e l'assoggettamento delle popolazioni che li abitano all'autorità di Roma. Questo è l'impero romano. Il risultato di un'espansione politico-militare che nel corso di quattro secoli, segnati anche da crisi, divisioni, arretramenti e riconquiste, ha raggiunto tre continenti. Il bacino del mar Mediterraneo, il mare Nostrum, rappresentava il centro del mondo romano. Era attraversato da navi da carico che portavano olio, grano e molte altre merci a Roma, la metropoli di un milione di abitanti. A sud, i suoi confini erano il deserto africano e quello arabo. I romani si erano spinti fino in Africa e nella penisola arabica, non solo con posti fortificati di frontiera e guarnigioni di legionari, ma con città commerciali, bille padronali e latifondi. A nord, i confini dell'impero erano segnati dai fiumi Reno e Danubio, quest'ultimo attraversa gran parte dell'Europa centrale, includendo dunque nell'impero anche le province balcaniche, fino a raggiungere il Mar Nero. Altri due importanti corsi d'acqua, il Tigri e l'Eufrate, segnavano la frontiera di Roma verso Oriente. Al di là dell'Asia minore e oltre i fiumi mesopotamici, nell'area che all'incirca oggi corrisponde all'Iran, iniziavano i territori di un altro impero rivale, quello sassanide, anch'esso molto vasto, potente e civilizzato. Quella che per noi oggi è l'area medio orientale, comprendente Iraq, Siria, Palestina ed Egitto, allora era parte integrante del mondo romano. Gli stessi luoghi che oggi, in parte, ci riportano all'orrore dell'Isis, alla nuova barbarie che non risparmia neppure le vestigia delle antiche civiltà, erano tra le province più ricche e civilizzate dell'impero. Per i funzionari, i militari e i mercanti romani, quei territori rappresentavano probabilmente le zone dove sentirsi meno spaesati, più vicini a Roma e alla sua civiltà, rispetto agli avamposti gelidi del nord, oltre i quali vivevano i barbari. Ma da dove viene il nome barbari? Non dimentichiamo che sono i greci i primi che hanno pensato questa cosa, di dividere l'umanità in due, noi e gli altri, noi che parliamo greco, e tutti gli altri che quando parlano non si capisce niente. Barbar, barbar, barbari, appunto. Noi che siamo esseri razionali e i barbari che sono come bestie. Noi che siamo destinati alla libertà e i barbari che per natura sono schiavi. I greci qui pensano soprattutto ai tanti popoli che obbediscono al gran re, i popoli dell'impero persiano. E su questa cosa, lo sappiamo tutti, i greci hanno costruito la loro identità sul ricordo delle termopili, di maratona, quando gli uomini liberi hanno vinto contro i barbari per difendere la loro libertà. Però c'è anche un risvolto un po' sgradevole di questa faccenda. Se i greci sono liberi per natura e i barbari per natura sono schiavi, schiavi, vuol dire che evidentemente i greci hanno il diritto di ridurli in schiavitù. La società greca è una società schiavista e Aristotele teorizza che i greci possono tenere come schiavi i barbari perché i barbari sono nati per quello. Dopodiché ai greci succede una cosa spiacevole che arrivano degli altri barbari, questa volta da Occidente, li sconfiggono, sottomettono la Grecia, la incorporano nel loro impero. Questi altri barbari che vengono da Occidente ovviamente sono i romani. E i greci fra loro continuano a chiamarli barbari per molto tempo. Ci sono dei passi nella letteratura latina, Plinio per esempio dice sì, questi greci, i nostri sudditi, in realtà di nascosto continuano a chiamarci barbari, i nos dictitant barbaros. Nelle commedie di Plauto, che sono ambientate in Grecia, i personaggi greci quando parlano dell'Italia dicono quel paese è barbaro, quella moda barbara di mangiare sdraiati sui triclini. Però a un certo punto i romani si seccano di essere considerati barbari. E allora i greci accettano un compromesso, che è uno dei segreti meglio custoditi dell'antichità. In cambio di grossi privilegi nell'impero romano, i greci accettano di modificare il concetto di barbaro, che non vuol più dire chi non è greco, vuol dire chi non è né greco né romano. A partire da questo momento possiamo parlare di romani e barbari. Un rapporto che non è soltanto conflittuale è che si evolve nel corso dei secoli, ma che si aggira sempre intorno a due poli. Da un lato la grande disponibilità dei romani a integrare, certe volte anche con la forza, i barbari nel loro impero. E dall'altro quella paura sotterranea che in realtà serpeggia sempre nell'animo dei romani quando pensano a questo immenso mondo, loro lo chiamano il barbaricum, che si estende al di fuori dell'impero. A fare da confine tra il mondo ricco, civilizzato dell'impero e la vastità oscura del mondo abitato dai barbari, c'è una frontiera che non è fatta solo per escludere, ma anche per comunicare, per commerciare. Il limes. C'è una parola latina che indica l'insieme delle frontiere romane sin dai tempi di Traiano nel primo secolo dopo Cristo. Il limes. In origine, con questo termine si faceva riferimento alle strade militari allestite in prossimità delle frontiere. Ma successivamente venne utilizzato per indicare le fortificazioni erette a protezione delle stesse strade, finendo così per acquisire una dimensione geografica e amministrativa e indicare l'intero territorio delle province di confine. Nella tarda età imperiale, con il termine limes si intendeva una linea di confine, un limite costituito da barriere naturali che potevano essere di tipo fluviale o montuoso o infine desertico e da barriere artificiali costruite con scavi, palizzate, torri di avvistamento e fortezze in muratura lungo le strade di frontiera. In Europa, dal nord della Britannia fino al Mar Nero, il limes si estendeva per migliaia di chilometri. Oggi, della più vasta e articolata struttura mai costruita nel vecchio continente, restano pochissime tracce. Il limes è scomparso, distrutto dallo scorrere del tempo e dall'agricoltura intensiva che ha trasformato il territorio. Nel suo tratto tedesco più occidentale, alcuni studiosi hanno realizzato un esperimento per farlo rivivere a distanza di due millenni. Hanno studiato con attenzione alcune mappe del passato che indicavano la presenza di torri e fortificazioni e hanno posizionato delle gigantesche balle di fieno in corrispondenza sia di questi punti sia di alcune montagnole di terreno che potrebbero nascondere delle antiche fondamente. In questo modo, collegando con una linea tutte le postazioni individuate e ipotizzate, gli studiosi hanno disegnato un limes immaginario che si presta a una prima interessante constatazione. Le postazioni di avvistamento risulterebbero costruite tutte a una distanza in grado di garantire sempre il contatto visivo permettendo così la trasmissione di segnali con estrema facilità e rapidità. Ma per poter tornare a rivedere l'antico limes i ricercatori tedeschi hanno fatto ricorso anche a dei sofisticati sensori a raggi infrarossi montati su degli elicotteri in grado di eseguire un'accurata scansione 3D del suolo. Questi sensori permettono di penetrare attraverso i campi coltivati e la boscaglia e ritrovare i segni più remoti di eventuali scavi e costruzioni. La speranza è che in questo modo si riesca a individuare l'antica linea di confine dell'impero romano anche se nascosta nel profondo delle foreste. E il risultato della scansione si dimostra sorprendente. Sui monitor degli studiosi al centro dell'area analizzata si compone una linea incredibilmente direta. Anche se in modo virtuale il confine dell'impero romano è tornato in vita. Nel nostro immaginario la frontiera dell'impero romano il Limes ha un'importanza enorme. Ce lo immaginiamo come una barriera impenetrabile una specie di muraglia cinese concepita per non lasciar passare nessuno. E ci immaginiamo volentieri i romani ossessionati dalla necessità di impedire a chiunque di attraversare la frontiera. In realtà non era proprio così. Anzi fa impressione vedere quanta poca importanza davano i romani alle loro frontiere anche perché ufficialmente non le riconoscevano. Nella sua propaganda l'imperatore romano era il signore del mondo intero. Il padre di tutti i popoli è solo per caso se momentaneamente la sua autorità non si estendeva al di là di un certo di un certo fiume. C'è una frontiera quella orientale dove questa era veramente una finzione. A oriente Roma confina con un altro impero l'impero persiano che noi chiamiamo l'impero dei sassani. E anche se i romani ostentavano di considerare pure loro come dei barbari in realtà i persiani avevano un impero solido civilizzato quella frontiera che passava in Mesopotamia l'attuale Iraq sul Tigri o sull'Eufrate a seconda delle vicende belliche comunque era una vera frontiera i romani non potevano andare e venire a piacimento. Ma le altre frontiere dell'impero romano quella verso i barbari del nord sul Reno sul Danubio oppure quelle a sud verso i nomadi dell'Arabia e dell'Africa ecco lì era tutta un'altra cosa lì i romani passavano quando volevano. Lungo il confine arabico e quello africano non ci sono fiumi a proteggere l'impero ma c'è il deserto un confine quindi labile difficile da individuare per gli stessi funzionari romani di frontiera le popolazioni locali sono nomadi beduini e berberi che si muovono continuamente lungo e attraverso le frontiere e che per i romani sono considerati dei barbari del sud con cui l'impero può però convivere senza troppi problemi quando i nomadi esagerano con le razzie sono prontamente puniti in altri casi i romani si accordano con alcune tribù che vengono pagate per scortare le carovane e guidarle lungo le piste del deserto al confine settentrionale la situazione è molto diversa qui la frontiera dell'impero è marcata dai grandi fiumi Reno e Danubio i grandi fiumi erano le autostrade dell'antichità consentivano il trasporto di merci così come di truppe per questo i convogli tra l'Europa centrale e orientale richiedevano protezione e sicurezza fino alle sponde del Mar Nero che segnava il termine dell'ines nell'Europa orientale gli scrittori romani si congratulano che la natura o la provvidenza se sono scrittori cristiani abbia collocato lì quelle due masse d'acqua per tenere a bada i barbari che vengono dal freddo ma durante gli inverni gelidi quando i grandi fiumi ghiacciano o nelle state insolitamente torride quando il livello delle loro acque si abbassa questa barriera naturale cessa di funzionare e l'allerta si fa massima perché oltre i grandi fiumi ci sono i barbari più pericolosi e misteriosi dall'altra parte del Reno e del Danubio vive una moltitudine di piccole tribù barbare i romani qualche volta si sforzano di inventariarle di classificarle ma in realtà non ne sanno molto non capiscono la loro lingua non sanno trascrivere i loro nomi e in generale disprezzano troppo i barbari per aver voglia di conoscerli semmai gli interessa conoscere il loro paese perché poi per invaderlo bisogna saperne qualcosa e il paese che i romani conoscono meglio è quello al di là del Reno i romani lo chiamano la Germania e per questo stesso motivo chiamano Germani tutti i barbari che ci abitano molto probabilmente i membri di tutte queste tribù non sapevano affatto di essere un unico popolo e di essere i germani ci sono voluti i romani per insegnarglielo Germania dei romani è un paese abbastanza sinistro con un clima tremendo un paese di foreste di paludi dove non c'è niente non ci sono strade non ci sono città e tuttavia i romani potremmo dire per la forza dell'abitudine provano lo stesso a conquistarlo e alla fine ci si bruciano le dita e subiscono una delle sconfitte più famose della loro storia penso al 9 dopo Cristo quando il governatore romano della Germania Quintilio Varo viene attirato in un'imborscata con tutto il suo esercito tre legioni nella foresta di Teutobur mai sconfitta fu più sanguinosa di quella subita fra boschi e paludi così scrive Publio Cornelio Tacito nei suoi Annales tre legioni vinte e distrutte nel cuore di quella terra che i romani chiamano Germania è l'autunno dell'anno 9 dopo Cristo a guidare i Germani un condottiero che la cultura romantica tedesca ha trasformato nell'eroico difensore dell'indipendenza del suo popolo dai conquistatori Arminio o Herman nel moderno tedesco la sua statua eretta nel 1875 svetta nella foresta di Teutoburgo la zona che gli storici hanno identificato per molto tempo con il luogo della battaglia descritta da Tacito Arminio apperteneva al popolo germanico dei Cherusci figlio di un notabile a dieci anni viene condotto col fratello a Roma per essere educato e trasformato in un fedele ufficiale alleato dell'impero una prassi consolidata che dovrebbe favorire l'assimilazione delle elite locali e consolidare il dominio romano sulla Germania ai vostri posti Arminio entra a far parte della gigantesca macchina bellica romana riceve sia una formazione tecnica sia un indottrinamento ideologico apprende così la ferrea disciplina romana e si rivela un allievo modello diventando ufficiale di un auxilium una squadra di ausiliari germani a cavallo le qualità dimostrate sul campo gli fanno guadagnare rapidamente onori e promozioni fino all'ottenimento di un incarico di grande importanza nell'anno 7 d.C. l'imperatore Augusto invia un nuovo governatore in Germania il suo nome è Publio Quintilio Varo che come governatore della Siria ha saputo sedare una rivolta giudea facendo crocifiggere duemila insorti al suo fianco come fidato assistente viene posto Arminio considerato un cavaliere valoroso leale e ligio al dovere che conosce le tecniche militari dei germani e non ne ha dimenticato la lingua a 15 anni dalla sua partenza Arminio fa ritorno nella sua terra d'origine e l'impressione che ne riceve sarà probabilmente determinante per le sue scelte successive dopo aver assistito alle vessazioni dei popoli germanici ridotti a vivere come schiavi sottoposti a tasse confische e a durissime repressioni di coloro che orgogliosamente continuano a rifiutare il gioco romano Arminio decide di ribellarsi contro Roma è l'autunno del 9 d.C. le tre legioni di Quintilio Varo composte da quasi 20.000 uomini vengono attirate nei boschi all'inseguimento di Arminio è un errore decisivo nella foresta di Teutoburgo un labirinto di dirupi scoscesi profonde gole e fitta vegetazione la supremazia militare romana viene meno è lì che Arminio ha preparato il suo agguato le colonne dei soldati romani non possono restare unite e i germani attaccano improvvisamente i tronconi isolati per poi ritirarsi ad ogni attacco le forze romane diminuiscono e tra i legionari comincia a prevalere il terrore il più efficiente esercito dell'antichità è allo sbando nella selva di Teutoburgo si consuma così una disfatta di proporzioni storiche nessun romano sopravviverà alla furia dei germani lo stesso varo si toglierà la vita trafiggendosi il petto la sua testa compirà un macabro viaggio sino a Roma dall'imperatore Augusto dopo Teutoburgo i romani si spingono ancora qualche volta nella Germania del nord ma non arrivano mai più a conquistarla tanto che si abitueranno a chiamarla la Germania Libera e su questo paese sui suoi abitanti che Tacito scrive uno dei primi reportage etnografici della storia la Germania appunto i barbari che vivono lì sono dei nemici feroci odiati ma familiari e d'altra parte loro stessi stanno cominciando come dire a acculturarsi al di là della frontiera del Reno gli archeologi hanno trovato ville con pavimenti di mosaico che qualche capo alla manno si è fatto costruire da maestranze romane ma sulla frontiera del Danubio è tutta un'altra storia lì specialmente verso la foce del fiume dove il Danubio sbocca nel Mar Nero i romani sanno veramente poco di quello che c'è al di là della frontiera al di là del Danubio i cronisti del tempo parlavano di immense steppe che continuavano verso nord e dove nessuno sarà mai spinto oggi sappiamo che quelle steppe attraverso l'Ucraina conducono direttamente alle pianure dell'Asia centrale patria di nomadi che nei millenni si sono riversati a ondate contro le grandi civiltà stanziali contro l'impero romano ma anche contro la Cina e l'India ma 17 secoli fa questo ribollire di nomadi carico di incognite rendeva inquietante il confine Danubiano anche i popoli più vicini al grande fiume che avevano cominciato a civilizzarsi commerciando con i romani e praticando una rozza agricoltura oltre all'allevamento continuavano a destare a prensione tra queste popolazioni i gotti erano una delle più importanti oggi grazie agli specialisti di linguistica comparata sappiamo che si trattava di un popolo germanico ma al tempo dell'impero i gotti erano semplicemente degli orribili barbari alti con i capelli biondi o rossi tutte caratteristiche negative agli occhi dei dominatori romani mediterranei piccoli e bruni che ritenevano di possedere una civiltà superiore e guardavano tutti gli altri con disprezzo i gotti andavano bene a cavallo erano allevatori e pastori oltre che contadini le loro tradizioni nomadi si facevano ancora sentire la facilità con cui decidevano di spostarsi in massa con le loro famiglie e loro bestiame caricando le masserizie su convogli di carri in cerca di territori più fertili o più sicuri era seguita con preoccupazione le popolazioni delle steppe danubiane insomma erano quelle che facevano più paura perché dietro di loro c'era l'ignoto il fatto che i barbari si muovono così facilmente è il motivo principale per cui i romani hanno paura di loro perché poi intendiamoci normalmente sono i barbari che hanno paura dei romani e hanno ottimi motivi per averne paura però i romani hanno l'incubo del popolo barbaro che si presenta all'improvviso alla frontiera e pretende di entrare con la forza è successo tante volte in passato i galli di Brenno tanti secoli prima sono arrivati fino a Roma i cimbri e i teutoni sono stati fermati e sterminati da Caio Mario quando erano già entrati in Italia e dunque i romani hanno questa impressione fallace probabilmente che il mondo barbarico produca una quantità enorme di uomini vomiti continuamente masse di uomini contro la frontiera romana e dunque i romani devono attrezzarsi per fermarli oppure per integrarli la capacità di integrare i barbari attraverso la concessione della cittadinanza è da sempre uno dei punti di forza dell'impero di Roma certo sulla carta l'impero appartiene ai cittadini romani al popolo conquistatore e gli abitanti dei paesi conquistati sono semplicemente degli indigeni fino a quando non ottengono anche loro la cittadinanza romana perché Roma distribuisce la cittadinanza senza guardare al colore dei capelli o della pelle senza chiedere a quali dei uno sacrifica tutti quelli che possono rendersi utili prima o poi diventano cittadini la forza di concedere la cittadinanza ai barbari viene un momento in cui nell'impero romano la distinzione fra cittadini e indigeni comincia a sembrare anacronistica finché nel 212 dopo Cristo l'imperatore Caracalla prende una decisione epocale d'ora in poi tutti quelli che vivono nell'impero romano saranno automaticamente cittadini romani L'editto di Caracalla è stato a lungo sottovalutato dalla storiografia forse noi che viviamo nel mondo di oggi siamo meglio attrezzati per capire che decisione cruciale è stata e deve essere stato anche molto difficile prenderla però l'editto di Caracalla ha avuto anche un effetto inaspettato diciamo così ha incoraggiato l'immigrazione perché i barbari ormai sapevano che chi riusciva a entrare nell'impero e a confondersi con la popolazione dopo un po' veniva considerato un cittadino romano senza bisogno di scartoffie di passare per gli uffici di chiedere autorizzazioni specularmente i romani hanno sentito sempre più il bisogno a partire dall'inizio del terzo secolo di controllare l'immigrazione e di difendere le frontiere quando l'imperatore Caracalla nel 212 pubblica il suo editto i romani non sanno che sta per cominciare una delle epoche più terribili della loro storia che la paura dei barbari che premono ai confini sta per ridiventare un'ossessione quotidiana nel terzo secolo l'impero romano paga un prezzo pesantissimo al suo principale difetto la mancanza di un sistema di successione al trono continuamente succede che un imperatore viene assassinato da un generale che si ribella che prende il suo posto solo per essere a sua volta ammazzato da qualche altro ribelle nel giro di 50 anni si susseguono 27 imperatori romani e di loro solo tre muoiono di malattia tutti gli altri muoiono ammazzati questa situazione la difesa delle frontiere è quella che è e i barbari ne approfittano le invasioni arrivano in profondità gli alamanni devastano l'Italia del nord i goti arrivano fino ad Atene sembra che per l'impero romano sia arrivata l'ultima ora e invece l'impero viene salvato viene letteralmente riacciuffato per i capelli sull'orlo del disastro da una serie di imperatori imperatori militari che vengono dai Balcani gente brutale spietata Aureliano Diocleziano Massimiano Costantino sono generali durissimi ma hanno le idee chiare trasformano profondamente l'impero e lo rimettono in piedi il segreto di questi imperatori della fine del terzo secolo è che hanno imparato che i barbari si possono anche usare e non è necessario sterminarli è molto meglio assumerli e arruolarli nell'esercito nel quarto secolo l'esercito romano è diviso in un esercito campale e in un esercito di frontiera per un totale secondo le stime degli storici di oltre 500.000 effettivi la composizione dell'esercito segue la tradizione dei secoli precedenti ovvero la suddivisione tra legioni ed auxilia i reparti ausiliari ripartiti in ali e coorti reclutati tra le popolazioni barbariche stanziate consensualmente all'interno dei confini imperiali e talvolta anche al di fuori l'esercito può essere considerato come la principale istituzione dell'impero romano assorbe la maggioranza delle sue risorse umane ed economiche ed è il più importante meccanismo di integrazione recluta vaste quantità di manodopera barbarica e dopo un lungo e logorante servizio restituisce alla vita civile i superstiti trasformati in cittadini romani il reclutamento nell'esercito è prevalentemente volontario possono arruolarsi sia cittadini romani sia barbari a patto che non siano schiavi i figli dei soldati possono essere arruolati anche per via ereditaria mentre ai facoltosi contribuenti viene imposta una tassa pagabile in reclute le reclute erano anche oggetto di scambio che spesso i romani esigevano come parte dei trattati di pace imposti alle popolazioni barbariche sottomesse nelle fonti dell'epoca si parla senza vergogna di compravendita degli immigrati per l'esercito e nell'esercito imperiale questi immigrati potevano fare carriera diventavano generali si tratta della barbarizzazione dell'esercito che una volta gli storici guardavano con una certa diffidenza e in effetti fa impressione vedere quanti generali romani dal quarto secolo sono per nascita dei barbari goti franchi alamanni poi però viene da pensare che anche oggi nell'esercito americano tanti generali per nascita sono filippini messicani giapponesi eppure sono tutti generali americani anche i militari barbari dell'esercito romano erano fedeli all'imperatore e lo sono rimasti per secoli come queste guardie del corpo di giustiniano sono gli uomini a cui è affidato l'incarico più delicato la vita dell'imperatore dipende da loro eppure basta guardarli i capelli lunghi la forma dello scudo le brache lunghe fino ai piedi sono barbari insomma nel quarto secolo la retorica della paura è vecchia la tengono viva gli inviati delle province di frontiera che vengono al palazzo imperiale a reclamare misure preventive spedizioni punitive contro i barbari ma il governo imperiale non si preoccupa certo le risorse sono quelle che sono è impossibile impedire che prima o poi su qualche frontiera scoppi una crisi ma non importa i barbari alla fine saranno sempre domati l'impero sarà sempre il più forte e poi anche le crisi possono aprire degli orizzonti interessanti ogni volta sono nuovi gruppi di barbari che vengono trasferiti sul territorio romano e messi al lavoro oppure arruolati nelle caselle l'importante è che questo flusso di profughi di deportati di immigrati sia tenuto rigidamente sotto controllo in modo da formare non una debolezza o una minaccia ma un punto di forza un elemento della prosperità dell'impero è il caso di sottolineare che nel quarto secolo l'impero romano non è più in crisi è un impero solido con un'economia in crescita ed è anche un impero in grande trasformazione il fatto principale che sta accadendo è che l'Oriente prende pian piano il sopravvento rispetto all'Occidente le province orientali l'Egitto la Siria l'Asia minore diventano più popolose più ricche rispetto alla Gallia alla Spagna perfino all'Italia questa è una cosa che si vedrà bene già a partire dal regno di Costantino l'imperatore che non a caso fonda una nuova capitale molto più a Oriente nel punto in cui l'Europa e l'Asia si toccano Costantinopoli l'imperatore che sceglie di dare all'impero romano una nuova religione che viene anch'essa dall'Oriente il cristianesimo nel 325 d.C. ampliando l'antica Bisanzio l'imperatore Costantino fonda una nuova Roma Costantinopoli ora Istanbul grande metropoli della Turchia oggi si discute se questo paese la Turchia possa far parte dell'Unione Europea ma allora nel IV secolo era proprio lì che batteva il cuore dell'impero romano quando nel 364 muore l'ultimo discendente diretto di Costantino Gioviano l'esercito romano acclama imperatore uno dei suoi generali Valentiniano che appena proclamato suddivide l'impero in due parti occidentale e orientale Valentiniano decide di tenersi l'Occidente dove ha combattuto fino a quel momento contro i Germani del Reno e nomina imperatore d'Oriente suo fratello Valente il rapporto con la religione è una caratteristica che distingue i due imperatori Valente è un fanatico religioso un cristiano ariano che perseguita i cattolici chiude le loro chiese e manda in esilio i vescovi che cercano di resistere Valentiniano invece impone è una tregua è una sostanziale tolleranza per cui i pagani cristiani cattolici e cristiani ariani sono costretti a convivere in questo impero che cambia e che diventa cristiano nel corso del quarto secolo cambia anche l'atteggiamento nei confronti dei barbari nei discorsi dei politici emerge una nuova ideologia umanitaria l'imperatore è il padre di tutti gli uomini quindi anche dei barbari l'impero è la casa di tutti dove anche gli immigrati barbari possono imparare a vivere razionalmente e a pagare le tasse una volta si elogiavano gli imperatori che dopo aver vinto i barbari li sterminavano adesso si loda la benevolenza degli imperatori che dopo aver vinto i barbari li risparmiano e li accolgono come nuovi sudditi e nuovi contribuenti gli imperatori nelle loro leggi si rallegrano perché sempre nuovi popoli vengono a cercare la felicità romana viene in mente quella costituzione degli Stati Uniti che appunto riconosce a tutti il diritto alla ricerca della felicità è veramente è possibile un parallelo fra il tardo impero romano e quegli Stati Uniti che forse sono l'ultimo impero rimasto nel mondo di oggi un parallelo anche nel contrasto fra la retorica della felicità e l'estrema spregiudicatezza con cui poi si difendono in modo anche brutale i propri interessi come gli Stati Uniti l'impero romano degli ultimi secoli è un melting pot un crogiolo di popoli eppure a un certo punto qualcosa va storto qualcosa comincia a non funzionare più bene nei meccanismi di accoglienza e di controllo degli immigrati e l'immigrazione da risorsa diventa un fattore destabilizzante è proprio così che arriviamo al nostro appuntamento sappiamo l'epoca il quarto secolo il luogo è la frontiera del Danubio e la causa scatenante è proprio un'emergenza umanitaria stiamo parlando dell'ingresso nell'impero romano di un intero popolo di profughi i Goti e della gestione disastrosa di questa operazione umanitaria da parte dei romani con una conseguenza drammatica la battaglia di Adrianopoli del 378 d.C. tra l'esercito romano e i Goti un intero popolo in cerca di accoglienza i Goti da secoli vivevano ai margini dell'impero e avevano cominciato a cambiare il loro modo di vita attraverso il contatto con Roma con il commercio e la possibilità di essere reclutati come mercenari ma nel 376 d.C. qualcosa sta per cambiare il loro destino si dice che i barbari del nord si sono messi in movimento lungo tutto il corso del Danubio fino al Delta e al Mar Nero intere popolazioni vengono scacciate dalle loro case da qualche cataclisma sconosciuto e vagano minacciose lungo la frontiera questo cataclisma misterioso ben presto trova un nome è il nome di un popolo nuovo poco conosciuto uscito dalle remote steppe dell'Asia gli Unni le poche informazioni che circolano dicono che gli Unni sono violenti e spietati a differenza dei Goti non è semplicemente gente che possiede poco e si sposta con facilità gli Unni sono completamente nomadi puri e duri nel palazzo dell'imperatore Valente nessuno si stupisce dunque quando giunge la notizia che i Goti terrorizzati dalla comparsa degli Unni nelle loro terre lontane non sono stati capaci di resistere gli Unni hanno passato un fiume dopo l'altro e dovunque hanno massacrato tutti uomini donne e bambini in modo feroce di fronte all'incalzare di questo nemico spaventoso i Goti hanno caricato le loro poche cose sui carri e così si sono messi in marcia verso sud alla fine tutta questa gente in fuga dopo aver vagato per mesi affamata e provata dagli stenti è arrivata ad accamparsi sulla riva del Danubio di fronte ai posti di guardia romani al di là del Danubio sanno che c'è un immenso impero ricco e civile dove è facile trovare lavoro chiedono solo di poter entrare i generali romani che comandano sulla frontiera del Danubio non si prendono la responsabilità di far entrare così tanta gente i Goti sono troppi ci vuole l'autorizzazione dell'imperatore l'imperatore Valente sta preparando la guerra contro il nemico ereditario di Roma l'impero persiano e quando arriva la notizia che i Goti hanno chiesto di entrare i consiglieri di Valente dicono è la fortuna dell'imperatore che li porta perché noi abbiamo bisogno di uomini per la nostra guerra perciò Valente manda ordini alla frontiera del Danubio i Goti sono amici sono nuovi sudditi bisogna farli entrare quando i Romani cominciano a traghettare i Goti attraverso il Danubio la situazione sfugge subito di mano i profughi sono troppi non si riesce neanche a contarli era stato dato ordine che i guerrieri dovevano consegnare le armi invece tanti riescono a portarle dentro di nascosto magari pagando una bustarella e poi ci sono zattere che si ribaltano bambini che rimangono soli i cronisti dell'epoca ci dicono che troppi ufficiali romani trovano la ragazzina che è rimasta sola e se la portano a casa alla fine i Goti vengono sistemati in una specie di campo profughi dovrebbero essere mantenuti con razioni a spese del governo che ha stanziato i fondi è una grossa operazione umanitaria che oggi avverrebbe sotto i riflettori davanti alle telecamere all'epoca non c'era niente gli ufficiali romani capiscono subito che c'è da fare dei grossi profitti in nero obbligano i profughi a pagare le razioni che dovrebbero distribuire gratis e alla fine i Goti sono costretti a vendere i figli come schiavi pur di non morire di fame il governo aveva ordinato di trasferire i profughi verso l'interno ma i generali ritardano il più possibile lo smantellamento del campo profughi ci sono troppi soldi da guadagnare poi quando si rendono conto che i Goti non ne possono più i generali si prendono paura e decidono di trasferirli il convoglio si mette in marcia scortato da tutte le truppe disponibili e dopo un lungo cammino arrivano davanti a una grande città Marcianopoli lì i Goti pensano di essere accolti e rifocillati ma le porte della città sono chiuse i cittadini si sono spaventati e non lasciano entrare né i Goti né i soldati e quella notte succede l'irreparabile i Goti tirano fuori le armi aggrediscono i soldati li uccidono gridano che i Romani non hanno mantenuto i patti e che adesso loro sono liberi di fare quello che vogliono e quello che vogliono fare è saccheggiare questo paese ricchissimo che si trovano davanti l'imperatore Valente quando viene a sapere che i suoi nuovi sudditi i Goti si sono ribellati non prende la cosa molto seriamente solo che sia questi quattro straccioni ma tutti i generali romani che vengono mandati per domare i Goti sono sconfitti intanto la ribellione dilaga gli schiavi Goti e ce ne sono tanti nelle case dei ricchi scappano per unirsi all'esercito dei Goti alla fine l'imperatore Valente è costretto a prendere in mano la situazione rinuncia alla sua guerra contro la Persia e si mette in movimento con tutto il suo esercito per andare a farla finita una volta per tutte con questi straccioni e anche noi siamo arrivati al nostro appuntamento nei campi di Adrianopoli il 9 agosto 378 sono passati due anni da quando i Goti hanno attraversato il Danubio al momento in cui Valente li intercetta nelle pianure della traccia i Goti sono appesantiti dal bottino dispongono i loro carri a cerchio e si schierano davanti in difesa ma non hanno via di fuga sembra che i Romani stiano per cogliere una facile vittoria a Valente dispiace perfino ammazzare tutta quella gente continua a pensare che sarebbe uno spreco tanto che quando i Goti gli mandano un sacerdote cristiano dei loro per negoziare Valente accetta può ancora darsi che riusciamo a metterci d'accordo la battaglia comincia da sola senza che nessuno l'abbia voluto un tafferuglio fra Goti e soldati romani parte un volo di frecce alla fine la mischia si allarga e mentre i Romani stanno spingendo i Goti contro la loro barricata di carri all'improvviso la cavalleria dei Goti che quel mattino si era allontanata in cerca di foraggio ritorna indietro e investe i Romani alle spalle e li annienta l'intero esercito dell'impero romano d'oriente viene distrutto quel giorno l'imperatore Valente è fra i caduti il suo corpo non sarà mai più ritrovato e dopo Adrianopoli il successore di Valente Teodosio viene a patti con i Goti ci riesce perché incredibilmente ancora adesso tutto quello che vogliono i Goti è poter vivere pacificamente dentro l'impero romano ma stavolta le loro condizioni perché hanno vinto non vogliono più essere messi a lavorare nei campi vogliono poter vivere tutti insieme armati sotto i loro capi con le loro leggi ben pagati dall'imperatore per tenersi tranquilli capi gotici vengono coperti d'oro di prebende di gradi non basta mai nel 410 d.C. Alarico re dei Goti e generale romano saccheggia Roma per vendetta perché l'imperatore non paga abbastanza alla fine l'unica soluzione sarà di assegnare ai Goti un pezzo di impero romano dove governeranno loro e così in Gallia e poi in Spagna nasce il regno dei Visigoti qualche anno dopo con la caduta di Romolo Augustolo nel 476 sarà l'imperatore d'Oriente che invita in Italia un altro popolo gotico gli Ostrogoti di Teodorico chiedendogli di venire a stabilirsi in Italia e governarla loro perché l'impero d'Oriente ormai non ha più la forza per difenderla ecco perché i senatori romani si rivolgono a Teodorico chiamandolo Augusto per loro è l'autorità legittima le popolazioni dell'impero romano d'Occidente si stanno abituando a obbedire ai re barbari sono nati i regni romano-barbarici la convivenza non è sempre facile soprattutto per motivi religiosi sono tutti cristiani ma i Goti sono ariani mentre i romani sono cattolici al tempo del sacco di Roma Alarico aveva dato ordine di risparmiare le chiese perché dopo tutto era pur sempre un cristiano altri re gotici come Teodorico passeranno alla storia come persecutori realizzare il sogno di quel poeta romano che voleva veder nascere un unico popolo cristiano si rivela più difficile del previsto e allora le invasioni barbariche continuità o rottura trasformazione lenta o mutamento traumatico il dibattito è aperto quello che è sicuro è che parlando di questo argomento abbiamo incontrato una serie di parole che suonano attuali frontiere profughi immigrati emergenza umanitaria accoglienza invasione convivenza paura sono anche le parole del nostro presente non sono assolutamente d'accordo su questi arrivi indiscriminati da che mondo ci si sposta dove si sta meglio nessuno ci ha mai comunque rispinto ci ha lasciato morire il mare vanno portati alla frontiera oppure messi su un aereo e spediti al loro paese non è un problema l'immigrazione è un fenomeno e come tale va gestito l'Occidente ha una responsabilità enorme su quello che succede in Africa abbiamo gli invasori in casa stanno migrando soltanto per non morire non capisco perché li dobbiamo ricevere caricandoci tutti i costi sociali che questo rappresenta che faremmo noi non capisco non capisco l'Occidente